Musica Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Partiamo dalla cronaca giudiziaria a un anno esatto dell'omicidio di Alessandro Colto, l'artigiano di Sacile, freddato il 24 settembre 2018 a Fontana Fredda, oggi si è tenuta all'udienza preliminare del processo che vede imputato Marius Lucian Aprian, il pizzaiolo rumeno, 49enne reo confesso, ha chiesto il rito abbreviato. Ha chiesto il rito abbreviato Marius Lucian Aprian, il pizzaiolo rumeno, 49enne, danne residente a Bodoia, accusato dell'omicidio di Alessandro Colto, l'artigiano di Sacile, freddato da tre colpi di pistola il 24 settembre 2018 nel parcheggio del Meta Center di Fontana Fredda. Stamattina si è celebrata l'udienza preliminare davanti al GUP, che ha fissato per il 17 gennaio 2020 la prossima udienza. In questo lasso di tempo i legali di Aprian, che hanno assunto da pochi giorni la difesa dell'uomo reo confesso, ricostruiranno con l'aiuto di un consulente la dinamica dell'accaduto. La simulazione, spiega uno dei legali del 49enne, l'avvocato Stefania Pattarello, si baserà sulle risultanze oggettive emerse dalle indagini e verrà valutato se queste sono compatibili con la versione resa dall'imputato. In particolare, valuteranno le impronte rimaste sull'arma del delitto, una beretta calibro 22. Una simulazione cruciale dal momento che il racconto dell'accusato e la ricostruzione degli inquirenti divergono. Al di là del motivo per cui Coltro si era recato all'incontro a Fontana Fredda con 15.000 euro per uno scambio di denaro per l'acquisto di Rolex, Aprian sostiene di aver avuto l'intenzione di impossessarsi della somma portata con sé dall'artigiano di Sacile, ma non quella di ucciderlo. Aprian afferma di aver fatto fuoco durante una collutazione, nata quando Coltro si era rifiutato di consegnargli il denaro, temendo che la vittima avesse con sé un'arma. Per l'accusa, invece, Aprian si era recato al Metacenter con l'intenzione di rapinare Coltro e previsto la possibilità di ucciderlo, e per questo gli contesta la premeditazione. Per quanto riguarda le due coimputate nel processo, le sorelle dominicane Cricesa e Cesarina Garcia hanno proposto il patteggiamento. Cricesa, ex attrice di lavoro di Aprian, è accusata di favoreggiamento e ricettazione, mentre Cesarina è contestato il solo favoreggiamento. Una bufala che parlava del rapimento di una bambina a Sacile postata su Facebook è costata a un 55enne sacilesi la denuncia per diffusione di notizie atte a turbare l'ordine pubblico. Hanno rapito una bambina ricca che si trovava a Sacile in compagnia della mamma. Questa notizia era stata diffusa nel pomeriggio di martedì 24 settembre sulla pagina Facebook 6 di Sacile Se, un post che accostava l'accadimento al sorvolo di un elicottero dei carabinieri sopra la città sullivenza. Una notizia però assolutamente infondata che è costata a un 55enne sacilese la denuncia per pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. La bufala, salvo che l'autorità giudiziaria non ravvisi un più grave reato, costerà all'uomo l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro. Nei cieli del sacilese l'elicottero AB 412 in dotazione all'arma dei carabinieri ha si volato, ma per un'attività di controllo. Il velivolo ha sorvolato l'intero territorio di competenza del comando dell'arma di Sacile, con finalità preventive a disposizione della centrale operativa per eventuali interventi o segnalazioni di reati, monitorando in particolare le zone industriali e commerciali di Bruniera, Prata, Pasiano, sino ai confini con le limitrofe province di Treviso e Venezia. Nel frattempo nei pressi del supermercato Bingo, militari dell'aliquota radiomobile della stazione di Fontana Fredda e personale in Borghese hanno controllato 38 veicoli, 42 persone, tra cui 4 pregiudicati, contestando 8 contravenzioni al codice della strada per violazioni inerenti alla velocità e il sorpasso con decurtazione di 9 punti complessivi della patente. Ancora i social protagonisti, dopo essere stato condannato e fuggito dal Friuli, ma i carabinieri della compagnia di Pordenone lo hanno rintracciato attraverso Facebook. Le indagini relative a questo caso sono state svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pordenone. Hanno portato alla localizzazione, nel Regno Unito, di Eugen Razvan Postolea, cittadino romeno di 34 anni. L'uomo era colpito da un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria pordenonese a seguito di una condanna alla pena di 3 anni, 2 mesi e 20 giorni per diversi reati tra Udine e Pordenone. L'uomo è stato ritracciato e arrestato anche grazie a notizie che lo stesso 34enne pubblicava sul proprio profilo Facebook che facevano riferimento all'azienda dove lavorava come dipendente e a un'autovettura con targa britannica dallo stesso postata in vendita su internet. Questa mattina, intorno alle 9.30, è stato segnalato il corpo a terra di un uomo sotto il ponte di Monte Reale-Valcellina. Dopo l'allarme, i pompieri del distaccamento di Maniago sono intervenuti immediatamente mentre la centrale Sores di Palmanova ha inviato anche l'elicottero sanitario. Giunti sul posto per il soccorso, i pompieri e i sanitari purtroppo non hanno potuto fare nulla. L'uomo infatti, un pensionato di 71 anni della zona, era deceduto. Si esclude la responsabilità di terzi. Voltiamo pagina. Il nuovo deposito di smistamento di Amazon è stato inaugurato ufficialmente oggi a Fiume Veneto. Servirà in modo capillare tutto il nord-est, contribuendo alla creazione di 100 posti di lavoro sul territorio. Primi pacchi, una borsa termica e un cellulare. Il deposito di smistamento Amazon di Fiume Veneto è entrato ufficialmente in funzione con l'inaugurazione di oggi. Questa mattina il colosso americano dell'e-commerce ha aperto le porte del magazzino da 4.500 metri quadrati che garantirà consegne ancora più rapide nell'area del nord-est. Primi prodotti consegnati dal deposito sono stati una borsa termica da 20 litri e uno smartphone Xiaomi. Amazon non è altro che una vetrina nella quale chiunque può far vedere i propri prodotti ai clienti in tutte le parti del mondo. La notte noi riceviamo e smistiamo le spedizioni che devono andare in consegne al giorno successivo ai nostri clienti nel territorio del nord-est. La nostra operatività è caratterizzata da una forte stagionalità e il periodo che ci aspetta è proprio uno dei più caldi dell'anno, nonostante sia inverno quasi. L'apertura del deposito di smistamento, che è operativo di notte, fa sorridere anche l'occupazione del territorio con 100 nuovi posti di lavoro in programma, 30 magazzinieri e una settantina di autisti assunti dai corrieri partner. Amazon ha investito 1 miliardo e 600 milioni di euro e creato dal 2010, anno del suo arrivo in Italia, più di 5.500 nuovi posti di lavoro che diventeranno 6.500 entro la fine del 2019. Il comune di Fiume Veneto non vedeva un'assunzione così massiccia in un unico momento da tantissimi anni, quindi sicuramente l'indotto in termini di posti di lavoro per noi è molto importante, per Fiume Veneto e per i comuni limitrofi certamente. Altro aspetto molto importante è sicuramente quello dell'indotto in termini di servizi, perché ci sono già diverse imprese del territorio che ci chiedono come entrare nel circuito. Vuol dire che questa azienda, Amazon, rappresenta un modo di fare imprenditoria, non l'unico, ma un modo di fare imprenditoria che chi, insomma, sa essere un imprenditore sa anche cogliere. Per celebrare l'apertura, nei giorni scorsi l'azienda ha effettuato una donazione all'area Giovani del Crodiaviano. Maurizio Mascarin, responsabile del reparto, ha ringraziato Amazon per il supporto dimostrato alla comunità locale. La cantina di Rauscedo e le sue 400 imprese socie sono al centro di un piano straordinario di interventi della Regione. L'ho annunciato in Consiglio regionale l'assessore alle risorse agroalimentari Stefano Zagner. Un piano straordinario di interventi per agevolare il riassetto economico-finanziario della cantina di Rauscedo e preservare la competitività e la redditività delle 400 imprese socie. Ad annunciare il piano è stato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zagner in Consiglio regionale. A maggio il CDA della cantina, in collaborazione con Cov Cooperativa e FWG, ha elaborato un piano straordinario di rilancio e ristrutturazione a fronte delle difficoltà che hanno portato al mancato pagamento dei conferimenti delle uve del 2018. A fronte di ciò l'amministrazione regionale sta definendo in dettaglio il proprio piano, incentrato sul fondo di rotazione in agricoltura e sul ricorso allo strumento dell'anticipazione del valore commerciale del magazzino. L'aiuto meramente finanziario, ha rilevato l'assessore, sarà costituito per l'impresa dal risparmio di interessi bancari che non potrà eccedere 200.000 euro per triennio. Il piano, continua Zagner, consentirà un intervento di moratoria del pagamento delle rate e dei finanziamenti già erogati alla cantina dal fondo. A tranne beneficio saranno anche le imprese socie, alle quali sarà dedicata una riserva del fondo. L'obiettivo è di consentire alla cantina, conclude l'assessore, di proseguire l'attività senza traumi, di ripienare, su base pluriennale, e una difficoltà finanziaria dovuto alla perdita secca di un'anualità e non già la capacità della cooperativa di generare reddito e valore. 19 anni dopo il primo studio di fattibilità, sabato sarà inaugurata la variante di Dignano, opera da 22 milioni di euro. FWG Strade fa sapere che ora si passa alla seconda fase con la realizzazione della bretella di Barbeano per congiungersi alla Cimpello Sequals e migliorare i collegamenti con il Pordenonese. Sarà inaugurata sabato alle 16 la variante di Dignano, opera da oltre 22 milioni di euro, pensata per alleggerire il traffico che ancora oggi attraversa il centro del paese. Al taglio del nastro, che si svolgerà all'imbocco ovest della Galleria, prenderà parte anche il presidente della regione, Massimiliano Fedriga. Un intervento atteso per gli effetti che avrà sulla viabilità locale e regionale, ma anche contestato per i costi e per l'impatto ambientale. Della bretella si è iniziato a parlare ad inizio anni 2000 con un primo studio di fattibilità della provincia di Udine. Nel 2003 arriva il parere favorevole al progetto da parte del comune di Dignano, mentre nel 2009 la regione ha affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva a FWG Strade la progettazione definitiva dell'opera e la sua realizzazione. È sorta così una nuova strada che collega la regionale 464 di Spilimbergo alla 463, bypassando l'abitato di Dignano. La bretella è lunga 1,2 chilometri, parte da una rotatoria del diametro di 40 metri sulla 464 in prossimità del tratto finale del ponte sul tagliamento e passando a sud dell'abitato di Dignano e a nord della frazione di Bonsicco si mette sulla 463 con una rotonda del diametro di 60 metri. L'opera è costata 22,6 milioni. A cinque anni dall'approvazione del progetto esecutivo, afferma il presidente di FWG Strade, Raffaele Fantelli, sabato consegneremo un'opera importantissima che risolve il problema del centro abitato di Dignano nel rispetto delle esigenze del territorio e dell'ambiente. Ora, conclude Fantelli, su questo territorio si entra in una seconda fase con la realizzazione della bretella di Barbeano per congiungersi alla strada regionale 177, Cimpello-Sequals, e quindi migliorare i collegamenti con il Pordenonese. Passiamo alla cultura. Presentata oggi nel Palazzo della Regione Lombardia a Milano la mostra Il Rinascimento a Pordenone. All'incontro, insieme all'assessore Pietro Tropeano, c'erano anche i curatori dell'esposizione Vittorio Sgarbi e Caterina Furlan. Una giornata importante perché a Milano si parla di un grande pittore padano che vuol dire attivo in un arco che va quasi da Milano, Piacenza certamente, Cremona, fino a Venezia ed è Il Pordenone, il pittore che prende il nome dalla sua città e che è un grande artista che ha visto Michelangelo, l'ha visto presto, ha visto Raffaello e può essere definito il Michelangelo del Nord Italia. Ha lasciato molte opere importanti in Friuli e quindi lì dove lui è nato si mettono le opere che possono essere portate e poi lo si mette in confronto con Lorenzo Lotto, con Giorgione, con Tiziano, con Correggio, con Parmigianino, tutti i grandi maestri che hanno lavorato nei primi 40 anni del Cinquecento. Un grande tra i grandi. Sì, grande tra i grandi, grande come loro e talvolta perfino stimolo a loro. Finalmente una mostra del Pordenone a Pordenone. La volevamo, la stiamo per inaugurare il 24 di ottobre. È una mostra che vuole essere la consacrazione di un'eccellenza del nostro rinascimento, di un'eccellenza del territorio pordenonese. Il nostro telegiornale termina qui. Vi lascio in compagnia di Eletroshock, condotto da Alessandra Salvatori e Daniele Micheluzzi. Questa sera si parlerà di commercio tradizionale e di e-commerce. Grazie di essere stati con noi e buona serata. Grazie di essere stati con noi e buona serata.